Ciao, sono Gloria, sono una biologa e vorrei parlarvi del rischio biologico. Tutti i giorni possiamo entrare a contatto con un agente patogeno sia in modo diretto, quindi entrando a contatto con una persona malata, altrimenti in modo indiretto, ovvero entrando a contatto con oggetti e ambienti contaminati. Il rischio di entrare a contatto con un agente patogeno aumenta quando si frequentano luoghi molto affollati e quando si rimane per parecchio tempo in un determinato luogo. Questi luoghi possono essere infatti palestre, call center, uffici e centri benessere. E in generale in tutti gli altri ambienti di lavoro. E' quindi fondamentale una corretta informazione sulle procedure di igiene, sull'igiene delle mani e su quella che è la pulizia degli ambienti comuni. La pulizia deve essere caratterizzata dalla sanificazione e dalla disinfezione. La sanificazione prevede un lavaggio con acqua e detergente. La disinfezione invece è l'utilizzo di disinfettanti, virucidi, battericidi in grado proprio di inibire la proliferazione batterica.